Buongiorno, sono Piero Collangiuli, consulente immobiliare a Remax Stella Polare. Oggi siamo in Corso Mazzini e vi presento un immobile di ampia metratura e quindi mi rivolgo più che altro a chi ha delle necessità di grandi spazi oppure anche la possibilità di poter dividere questo immobile. Infatti abbiamo 180 metri quadri di superficie. Seguitevi, ve lo mostro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.